Poi il contropiede della Danimarca, contratto da West, Babaiaro, Olize, Ococcia, a spazio, poi l'invito per Canu, solo davanti a Schmeichel, ancora Canu, intervento eccellente di Schmeichel, l'esperienza di uno dei migliori portieri del mondo, ma va sottolineato anche il movimento di Nuanco Canu che si era smarcato benissimo, palla filtrante per lui, eccellente il riflesso di Peter Schmeichel.